Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi, come potete vedere da questa nuova location, perché come sapete vi ho già raccontato, da circa tre mesi, ormai si va per il quarto, abbiamo cambiato casa, ci siamo fatti una nuova location che ovviamente va ancora abbellita, va ancora un po' tutta messa a posto, abbiamo ordinato, se vedete, sulle pareti laggiù dietro, che questa qui è la camera da letto, è sempre la camera da letto, ma sono seduto su una sedia, non sono più seduto sul letto lì dietro, abbiamo comprato delle strisce al neon per abbellirla un pochino e fare più una stanza, anche perché qui ci faccio unicamente le live, qualche vloggettino come questo che vedete ora, ma soprattutto le stream la sera, quindi non facciamo roba di giochi da tavolo o nient'altro, quello che farò da qui saranno o veloci vlog come questo per il canale YouTube, oppure live per Twitch, però non faremo unboxing, giochi da tavolo e cose del genere, e quindi c'è un attimino da abbellire tutta la stanza, ma abbiamo ordinato 20 metri di strisce a led che dobbiamo attaccare, più magari un microfono o qualcosa, ora vedremo un pochino per rendere sempre, anche perché gli sta sempre in queste cuffie e ne posso più. Comunque faccio questo velocissimo vlog per annunciarvi che da circa un mese, io e Mega, un ragazzo che ho conosciuto, giocando su Red Dead Redemption su un altro server, abbiamo riaperto il server di Wild West Italia, quindi abbiamo riaperto il nostro server di Red Dead Redemption Roleplay, il nostro è un server Roleplay al massimo livello, è un server storico, ambientato non nel 1899 come il normale Red Dead Online, ma ambientato nel 1887, abbiamo anticipato un po' per giocare non proprio la fine del West, ma un po' il periodo d'oro, se vi ricordate anche i personaggi storici di quell'epoca lì, che sono stati ad esempio i fratelli Earp a Tombstone, la battaglia, la guerra con i cowboys e tutte quelle cose lì, quindi abbiamo deciso di ambientarlo sì verso fine West, ma perlomeno 15 anni prima proprio da arrivare nel 1900, dove l'West praticamente era finito completamente, quindi sempre l'epoca delle perrovie e quant'altro, e anche di grandi criminali, non solo grandi eroi. E il nostro server è per il 50% basato sul lavoro, non esistono più, cioè ci sono ancora lavori pubblici, ma tutta quanta l'economia del gioco la gestiscono giocatori con aziende, script che ha fatto tutti quanti mega. Ad esempio se andate al saloon e comprate da mangiare, ci deve essere il proprietario del saloon o un cameriere, che è un giocatore. Se andate all'armeria a farvi fare un'arma, ve la deve veramente craftare uno che lavora all'armeria, che a sua volta compra i materiali da quello che lavora in miniera, e prende i materiali dai cacciatori che portano le pelli, per fare magari le impugnature, le armi, e giustamente il ferro per fare l'arma vera e propria. Allo stesso modo quello del saloon vi dà da mangiare, ma si è comprato carni e pelli da quello che va a caccia. Quindi, e ci sa anche ovviamente la magione Braithwaite, che si occupano direttamente di coltivazioni, campi e cose del genere. Sempre da vendere al saloon per fare da mangiare, ma non soltanto, perché potrebbero vendere anche ad attività criminali, che magari ci fanno il moonshine. Abbiamo aziende, vabbè aziende, attività criminali, abbiamo aziende legali, quello che vi ho detto, e tutto quanto il nostro gioco è basato interamente sul roleplay, e abbiamo pensato di fare un server dove non siamo ovviamente la famiglia felice, la casetta nella prateria, però ovviamente non è nemmeno un server dove entri, fai sparatore, rapine alle banche, prendi slog e è finito. Assolutamente no, anche perché siamo abbastanza intransigenti su queste cose, e per cose del genere c'è anche il permadet, quindi si possono fare, ma bisogna farle con criterio, e soprattutto non farsi beccare, però è un server che dà possibilità a tutti, dà possibilità a quei giocatori che vogliono fare roleplay, dà possibilità a quei giocatori il cui magari anche quella parte commerciale e logistica del gioco li attira, che si vuole vivere una vita nell'West tranquilla, o chi vuol fare magari anche il criminale. Chi vuol fare il criminale da noi si divertirà, perché tutti quanti in... cioè non è un server 90% criminale e 10% ogni tanto qualcuno si serve, no, l'abbiamo diviso nelle giuste dose e porzioni affinché tutti quanti si possano divertire, e non ci sia magari una parte che rovina il gioco alle altre, quindi è bilanciata al 100% e siamo 5-6 persone nello staff attive che ci stanno dietro. Io tra l'altro come owner, insieme a Mega, faccio anche da Dungeon Master e da Quester, quindi creo avventure, eventi e cose del genere. Tanti di voi mi hanno richiesto al tempo, ma perché non lo riapri, ma perché? Ma è sempre aperto, ma si può giocare. Il vecchio server è stato la base di questo, su cui Mega ha lavorato e l'ha ampliato 5 volte di più. Quindi è un server completamente nuovo, sempre fresco, ogni settimana ci sono a volte 2-3 aggiornamenti, script nuovi, cose nuove, siete i benvenuti a venire a giocare da noi, e vi lascio, primo link in descrizione, il Discord, dove venire per compilare il modulo whitelist, e per fare ovviamente il background e l'intervista, che è una cosa molto semplice. Ripeto, non è un server per fare casino, non è un server per streamer, per fare content e rapina alla banca, andate a giocare da altre parti. Questo è un server full RP storico, dove sì, potete fare criminali e tutto quanto, però noi cerchiamo prima di tutto di vivere davvero una vita nel West, di ambientarlo storicamente nella maniera più corretta e coordinata anche possibile fra tutti noi. Quindi siete benvenuti, Wild West Italia, versione 2.0, ma direi che anche, ormai anche una 3.0, con tutti i lavori che stanno uscendo, e trovate il primo link in descrizione. Ciao ragazzi, vi aspettiamo.